Andrea Cora è una decisione che fa rumore perché lascia il gruppo Insieme Possiamo ed entra nel gruppo misto. È una riflessione che ho portato avanti in queste settimane relative a quello che è il mio ruolo all'interno del Consiglio Comunale e quindi dopo aver portato avanti una discussione all'interno del gruppo di Insieme Possiamo ho ritenuto doveroso rassegnare prima le dimissioni da capogruppo ed oggi il passaggio formale con l'ingresso nel gruppo misto a voler testimoniare e significare una decisione sicuramente sofferta non semplice a livello individuale ma che è frutto di un ragionamento e di un percorso per il quale non mi ritrovavo più nella linea politica adottata dal gruppo di Insieme Possiamo non vi erano per me le condizioni per continuare un percorso di rappresentanza del primo gruppo consigliare di questa assise comunale e quindi era doveroso come forma di rispetto verso i miei colleghi nel momento in cui ho avvertito questa esigenza lasciare il gruppo perché in qualche modo credo che rappresentare Insieme Possiamo rappresenti anche in qualche modo la forza di maggioranza all'interno della compagine che sostiene Gian Guido d'Alberto io resterò saldamente all'interno della maggioranza con un atteggiamento di lealtà nei confronti del Sindaco senza rivendicare nulla a livello personale ma con in qualche modo quella libertà di pensiero che può essere propria di un consigliere che non è più chiamato a rappresentare il principale gruppo di maggioranza Che cosa si è rotto all'interno del gruppo che storicamente è quello più vicino al Sindaco? Credo non si sia rotto nulla, semplicemente vi sono valutazioni differenti come è fisiologico che sia, una lista civica che nasce come lista civica a sostegno del Sindaco d'Alberto è fisiologico che nei due anni di mandato vada ad esaurire in qualche modo quello che è l'impulso iniziale e questo è quello che ho avvertito a livello personale quindi con molta franchezza, non essendo attaccato a poltrono, ho ritenuto doveroso fare un passo di lato Voterà mai contro provvedimenti della maggioranza? A meno che non presenteranno qualche provvedimento di carattere assurdo all'interno del Consiglio non credo che sia oggi questo il tema della discussione ripeto, rimango lealmente all'interno della maggioranza La causa scatenante non è assolutamente il rimpasto di giunta che viene portato avanti spero che in qualche modo la compagine di governo venga rafforzata il prima possibile ho sempre sostenuto la necessità di rafforzare quella che è l'azione amministrativa della maggioranza d'Alberto e quindi su questo continuerò a dar battaglia, in qualche modo a stimolare la maggioranza perché in qualche modo non ci si può avvitare su discussioni che ricordano un triste passato qualcun altro prima di noi finita un notaio, qualcuno potrebbe essere sfiduciato in aula non credo che sia quello l'orizzonte che si merita questa comunità questa comunità si merita un'amministrazione compatta, coesa, che vada avanti che porti avanti dei provvedimenti di miglioramento per la città di Termo e questo è l'unico indirizzo che ho chiesto di perseguire al Sindaco nel momento in cui valuterà la possibilità di un rimpasto